Nicolau, Sernicola, insiste la Cremo, cross, secondo palo, Pichella, con la testa per il primo gol italiano di Pichella, 2-2. Ghiglione, cross in mezzo, Okereke! Risposta prontissima della Cremonese con Okereke di testa, 1-1. Okereke, guarda la porta, prova a piazzare! Super goal di Okereke! Asgassibar con il cross dentro, respinto, Sernicola! Sernicola! Torna in partita la Cremonese con Sernicola, che entra dalla panchina e segna il primo indimenticabile gol in Serie A Team. Una palla in verticale per la coppia Okereke e Sajuka, c'è Okereke! Che gol! 1-1! Davido Okereke, sinistro al volo! Non ci arriva Gigi Seppe ed è pareggio alla Reki! Grazie!